E' più facile in qualche modo imparare la matematica, che già è la bestia nera di chiunque, che non capire come funziona la statistica. Quando si presentano dei problemi che hanno a che fare con la probabilità e con la statistica, ci sono degli errori sistematici. Questa è la cosa interessante, che tutti sbagliano, ma tutti sbagliano allo stesso modo. L'esempio più classico è il dilemma di Monty Hall. In un gioco a premi ci sono tre porte. Dietro ad una c'è un premio, dietro alle altre nulla. Tirando ad indovinare, le probabilità sono tutte un terzo. Il concorrente sceglie per esempio la porta numero uno. Ha così il 33% di chance di vincere. Il conduttore che sa cosa c'è dietro ad ogni porta ne apre una, per esempio la numero tre. Dietro però non c'è nulla. Rimangono dunque due opzioni. La porta numero uno, quella iniziale. E la porta numero due. Cosa conviene fare? Mantenere la scelta iniziale oppure cambiare e puntare sulla due. Si potrebbe pensare che con due sole porte rimaste, entrambe chiuse, le probabilità siano 50 e 50. Invece no. Conviene cambiare e scegliere la porta numero due. Come mai? Gli statistici usano le probabilità condizionali. Per tutti gli altri basta considerare che se convenisse non cambiare, avremmo scelto la porta vincente al primo colpo, ma questo non è probabile. Capita una volta su tre.